Buonasera, buonasera a voi. Allora, non sempre così bisogna dare per forza le ultime notizie e commentarle e neppure sempre parlare di situazioni estremamente drammatiche. Non perché questa non la sia, ma è anche una notizia che in fondo ci fa divertire. Ecco, non è una notizia dell'ultima ora e ve lo dico subito, è datata. Solo che è chiaro che come tutti noi io non è che posso assorbire tutto quello che passa per il web e tutte le notizie. Talvolta così certe notizie vengono fuori molto tempo dopo, anche certi post li leggi perché poi iniziano a girare sul web molto tempo dopo. E questo è questo che mi è arrivato, l'ho trovato da un lato divertente, dall'altro ancora una volta ci inquadra esattamente il personaggio e come da titolo avrete, avete capito, sapete che parlo di Matteo Bassetti. Cos'è successo in questa notizia che ripeto non è una notizia fresca, è di un po' di tempo fa? Matteo Bassetti che ogni tanto commenta anche situazioni che non riguardano medicina, non riguardano i vaccini, non riguardano il covid, ma siccome lui è di Genova commenta anche le questioni di calcio. E se l'era presa un po' di tempo fa con un giornalista, Reo, di aver chiamato la sua squadra del cuore, il Genova, Genova. Esattamente aveva scritto, ve lo leggo, mi chiedo come faccia un giornalista professionista commentando su Sky Sport la partita ascoli Genova a chiamare il Genoa Genova. È solo dal 1893 che si chiama così, cioè Genoa senza la V. Gli ha risposto molto carinamente uno scrittore famoso come Andrea Tosato che gli scrisse. Beh, considerando che voi chiamate vaccino un farmaco sperimentale non immunizzante dagli effetti collaterali largamente ignoti, l'errore del giornalista ci può stare. L'ho trovato estremamente divertente e ancora una volta, passatemi il termine, uno sputanamento per il signor Matteo Bassetti. Vedete, quello che è incredibile che noi continuiamo ad avere nel nostro paese dei personaggi in vari campi che possono essere dalla politica alla medicina in questo caso, alla musica in tanti altri campi, dalla filosofia eccetera, talvolta davvero poco credibili, anzi per nulla credibili. Personaggi che talvolta sono addirittura anche grotteschi nelle loro esposizioni e nelle loro affermazioni. Ecco, questo è sicuramente il caso di Matteo Bassetti. Ora, Matteo Bassetti rimane ancora un riferimento per quanto riguarda il Covid, i vaccini nel nostro paese, anche se ormai le GAF che ha fatto, anche su questa questione, su questa materia, sono innumerevoli e soprattutto non si è mai voluto confrontare con chi non la pensa come lui. Poi però, ripeto, abituato ad attaccare tutti gli altri che hanno un'idea diversa dalla sua, poi però se la prende appunto con chi invece di chiamare la sua squadra Genova la chiama Genova senza farsi così un esame un po' di coscienza, non so, o senza fare una riflessione appunto sui vaccini e su quello che giustamente gli ha scritto Andrea Tosatto. Ecco, con questa cosa che potrete prendere anche un po' come divertimento e ancora una volta è caduto su una buccia di banana Bassetti. Io vi saluto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.